Grazie, assessore. Ho fatto bene a farlo parlare prima, così io posso tagliare metà del mio intervento perché ha detto meglio di me le cose. Meglio proprio, meglio di me, no, dai. C'era usato solo un dubitativo che non mi è piaciuto perché il gemellaggio ci è già in cominciare questa sera perché mi do una mano a non ripensarci sopra, anzi è previsto per settembre e ottobre in girone di ritorno a studiare, quindi questa è una cosa che è fatta e quindi la porteremo avanti a piano e quello che ci riguarda, noi daremo una mano, un impulso e qui colpo l'occasione ho fatto una gravissima dimenticanza, è un torto forse perché è un amico, ed è un amico buddista mi dimenticavo di presentarmi il professor Giuseppe Massaro, ordinario di letteratura inglese all'Università della Salienza. Poi ho dimenticato un altro amico che è Giorgio Grillo che è il mio presidente del centro culturale Levitid ed è questa sera in doppia rappresentanza perché rappresenta anche Valmila Pasqualini e Paola Gagliardo che possono essere presenti, sono del coro a cordi e note il quale verrà, penso, a subiato, ad aventarmi così a venire in posizione ridotta a questa iniziatura e quindi sentirete il coro a cordi e note a subiato, quindi fuori casa. Rispetto a quello che ha detto l'assessore, che ha molto ben detto, io volevo soltanto così ricordare un po' qual è stata la storia di questo libro. La storia di questo libro è stata una di quelle combinazioni che accadono nella vita, c'era Padre Pio di cui è molto un fan di Frosperi, il quale diceva, si combinazioni, ma chi combina le combinazioni? Io ve lo lascio così come elemento di riflessione perché in effetti esistono le combinazioni nella vita ma chi le combina poi queste combinazioni? Questo non si sa, chi crede trova la risposta immediata, chi non crede brancola cercando di dare una risposta. Quindi io ho incontrato Giovanni attraverso la presentazione a una rattatuglia e versi che è un libro che a me è piaciuto tantissimo nella lettura e che mi ha accompagnato per una settimana di studio profondo perché non mi arrendevo all'idea di questo poeta che veniva fatto passare con un poeta comico appunto che faceva ridere perché poi dal dialetto ci si aspetta che il poeta faccia ridere mentre i poeti quelli vani di dialettari fanno ridere e piangere come succedeva anche a tanti adeghieri senza fare paragoni immodesti però il vero poeta è uno che sa far ridere e piangere magari in un solo verso. Voi provateci vedrete che è una cosa molto difficile. E quindi io ho notato nella presentazione che faceva un libro di Giovanni Prosperi una lettura che collimava con quello che mi veniva come considerazioni quindi il senso dell'idronia, dell'autoidronia, questo canto sommesso ed epico. Io uso le parole perché quando le parole sono pesate bisogna dire quelle e non far finta di essere più intelligenti di usare le parole. Lui parlava di Prosperi, di canto sommesso ed epico, di una subiangolo più idealizzata ma accuratamente passata al sedaggio di un osservatore vigile, moralmente vigile e però scevola da giudizi e da pregiudizi moralistici. E poi pubblicamente argomentava tutte queste cose e gli argomenta ancora di più ma io non dirò niente del nuovo libro perché vedete che cosa abbiamo fatto scomodare un professore universitario? Se avevamo già la... e quindi ci affidiamo al... io posso dirvi da poesia a poeta che a me è piaciuto tantissimo una poesia che adesso sto però in dialetto di Subiaco, voi di Subiaco mi perdonerete ma io l'ho trovata una poesia dove in quattro versi si riesce, versi brevi, si riesce a dire una cosa dolcissima come questa. Io adesso vi mimirò con il gesto, la cunniata e la carezza è l'angelo e Sara Pettica. Questa è veramente un bambino, proprio fotografato, voi provate a fare di meglio di questo poeta e poi ne riparriamo. Ma mi interessava, per passare subito la parola al professore, un accostamento che ho trovato fra Scarpellino e Pallunzi di fronte alla morte perché della morte si parla poco, si fanno le conne, eccetera, invece i grandi poeti hanno un buon rapporto con la morte nel senso che sanno che la morte è attaccata alla vita e quindi è la fatale prosecuzione della morte. Ebbene, noi abbiamo l'universo che avete sentito leggere da Benedetto Rubi che appunto affronta questo argomento e abbiamo un Pallunzi che non ha nessuna paura più in questa contemplazione dell'universo. E abbiamo però un parallelo con lo Scarpellino che in un'altra foglia al vento, che è naturalmente uno scritto che riguarda più intimamente lui, conclude con questi due versi, parlando della sua morte che doveva ancora avvenire. Ma tu non ci stai più, manco ti importa, vai incontra a nulla, a eterno, a col contegno. Quindi vedete che forza hanno questi poeti di fronte a un atto importante come noi oggi il tema della serata è scoprire l'altra faccia di Pallunzi. E io vorrei dire un'altra cosa. A me è successo personalmente, tra l'altro è una felice coincidenza anche questa, mio padre avrebbe fatto cento anni, diciamo, in questo mese, mio padre era una persona straordinaria, analfabeta, però aveva molte cose da insegnare, ce ne ha insegnate più di una. Ecco, mia madre ha avuto una vita avventurosissima, è stata dieci anni tra guerra e prigionia e quando sentivo raccontare le cose di mio padre da degli estradi, avevo un profondo senso di fastidio, perché noi non ci rassegniamo al fatto che persone strane alla famiglia conoscano bene e conoscano aspetti che noi invece non abbiamo potuto apprezzare o conoscere. Questo è un novello che rimarrà in tutte e quante le persone, io vi confesso il mio tuttora, quando capito lo vedete, il signore del Bergato, dove dei vecchi amici di mio padre che mi raccontano degli episodi e io un po' rossi, diciamo. Quindi questo può accadere anche nell'introspezione, nel lavoro, nel lavoro che fanno i critici sui poeti e quindi io sono curiosissimo, come spero anche voi. Volevo citare soltanto, siccome siamo l'elici dei mondiali, anche un aspetto importante, ecco questa è una cosa che mi ha raccontato Marcello Refrigeli, non so se Renata lo conosce, che è uno che ha giocato con Achille e lui mi ha descritto come faceva delle gonne Achille, quindi per i garcioccoli che sono presenti, lui che cosa faceva? Stoppava di petto, si girava, faceva una gira volta e segnalava, ne ha fatto 288 di gonne, quindi scusate se è buono.